Ciao, io sono Ambra e oggi vi parlerò di uno dei miei giochi preferiti di sempre, Unlock. Unlock è un gioco ispirato all'escape room. Avete presente quei posti dove andate con gli amici, vi chiudono in una stanza e vi danno un'ora di tempo per uscire risolvendo enigmi? Ecco, proprio quello. Ma in questo caso potrete farlo comodamente da casa vostra. Avrete bisogno unicamente di una di queste scatole e di uno smartphone. Unlock è al momento costituito da sette scatole. Ogni scatola ha tre avventure, per un totale di 21 avventure tra le più disparate. Sarete catapultati su un'isola deserta o all'interno di una casa nel bosco, verrete attaccati da mostri marini o vi troverete faccia a faccia con i dinosauri. Alcune ambientazioni saranno un po' più familiari, potrete viaggiare da Oz con Secret Adventure fino al Paese delle Meraviglie o a Baker Street con Heroic Adventure. Insomma, cinema, circo, chi più ne ha più ne metta. Quindi un gioco per tutti i gusti decisamente. Ma come si gioca? Ogni scatola contiene un mazzo tutorial che vi spiegherà appunto come iniziare a giocare. Di base leggerete l'introduzione, scaricherete il caso relativo dall'applicazione, farete partire appunto l'applicazione e inizierete a rivelare le carte del mazzo che hanno i numeri rappresentati. Poi si tratta di combinare oggetti, per esempio le carte blu e le carte rosse vanno unite, ma chiaramente con una logica, quindi una chiave con uno schermo, forse con una cassa panca e si provano a donire quindi i numeri delle carte per rivelare la carta successiva. Ci saranno poi congegni da risolvere e insomma tante prove da superare. Questo gioco può essere giocato anche in solitaria, ma chiaramente il team paga, il lavoro di squadra paga sempre. Quindi, buon gioco! Ambra, ti ho già detto che non puoi convincere il nostro pubblico con l'ipnosi!